Salve, buongiorno e benvenuti alla previsione meteo, si preannuncia una perturbazione di lievissima intensità, ma si preannuncia soltanto, la verità è che c'è il sole anche se voi non lo sapete, soprattutto non lo sa già lui, però c'è il sole, dietro le nuvole c'è è sempre il sole dietro le nuvole, dicevano i Poo una volta tanto, tanto tempo fa, comunque vuol dire che si preannuncia una perturbazione di lievissima intensità, non come queste che vedete, si prevedono pinguini sul lungo mare di mare, e noi come vedete ci stiamo divertendo da morire, perché in coro cantiamo, e la vita è la vita, è la vita le mela, le mela, basta avere l'ombrella, l'ombrella, che riparte la testa, la testa, la testa, la testa, che è iniziò molto a chi accettere, la testa, la testa, la testa, la testa, la testa, la testa, le